Ciao a tutti ragazzi sono Peter Reaper e bentornati in questo nuovo episodio della Togethercraft Signori quest'oggi come potete vedere siamo ancora insieme a Captain Master come conoscete benissimo E siamo qua nella piazza centrale della Togethercraft in quanto abbiamo avuto insieme l'idea di costruire il mercato della piazza centrale All'interno del quale andremo a mettere poi qualche chest per scambiarci i materiali tra di noi Andremo anche a mettere magari qualche villager per poterci permettere di scambiare direttamente con loro appunto nella zona centrale qua del mondo Comunque ragazzi nel frattempo Daniele sta facendo il sentiero che collega praticamente casa mia alla piazza Quindi Daniele ti ringrazio per essere un ottimo schiavo in questo episodio E volevo dirvi ragazzi che ho intenzione di fare le bancarelle con stili diversi tra di loro Quindi per esempio magari lo stile delle bancarelle che avete già visto nel mercato sulla Minecraft PS4 Mischiato magari a qualche stile nuovo e anche lo stile che avete visto nella prima stagione di Minecraft PS4 Quindi ho intenzione di fare un pochino di cose Tra l'altro volevo ringraziare Daniele il quale ha sofferto di darmi la lana che ha ricavato tra l'altro nel suo episodio di ieri All'interno del quale è andato ad esplorare una magione Quindi vi consiglio di passare dal suo canale se siete interessati all'esplorazione soprattutto di questo tipo di strutture Allora 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 signori qua devo aspettare un attimino che cresca un po' di erba per fare il sentiero Quindi adesso devo aspettare un attimo appunto Tra l'altro volevo dirvi che ci saranno principalmente alcune bancarelle lungo la via che conduce qua nella piazza centrale E poi ci sarà un sistema di vie tra le bancarelle che conduce magari anche qua dietro E che permette quindi di collegare il mercato in maniera tutta abbastanza fluida come fatti E come un mercato normale è vero appunto farebbe Quindi adesso ci diamo un attimino ai lavori di preparazione Dopodiché ci prepareremo subito per costruire le bancarelle vere e proprie quindi anche il mercato Signori e signori come potete vedere qua adesso abbiamo un bello spiazzo Possiamo utilizzare tranquillamente per il mercato Ovviamente non sarà un mercato enorme potevate aspettare velo anche voi Tuttavia ho intenzione di fare qualche bancarella appunto per l'utilità che essi dovranno avere Tra l'altro questa qua diventerà pian piano un villaggio Quindi appunto l'idea di fare un mercato direi che ci stanca abbastanza bene Soprattutto perché si trova esattamente di fianco alla piazza centrale E per farvi capire quello che... Che problemi c'hai? E per farvi capire il progetto generale qua in mezzo Ho intenzione di far passare un sentiero che andremo subito a fare Che si collega principalmente appunto con la strada della piazza Quindi sarà il sentiero anche principale Dopodiché ci saranno delle sorte di vie intermittenti perpendicolari a questo sentiero Sto utilizzando dei termini troppo complicati per una roba che in realtà è semplicissima E che appunto mi permetteranno di fare un mercato comunque abbastanza organizzato Ovviamente il sentiero lo farò a caso sapete anche voi il perché Lì nel frattempo un amico di Daniele ha preso fuoco E generalmente il mercato sarà fatto così Ovviamente sarà fatto in maniera poco naturale Perché essendo un villaggio rustico il nostro Deve comunque mostrarsi sofferto dal tempo e robe di questo tipo Il che lo rende... Fermo 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 che non stai essendo da più il blocco verde E vabbè E appunto ragazzi adesso il nostro progetto sarà quello di cominciare a costruire qualche bancarella Quindi comincio giù a piazzare i primi pilastri Vediamo un attimino cosa riesco a organizzare Bene ragazzi come potete vedere ho preparato alcune bancarelle Non sono tantissime sono disposte in maniera casuale Però poi aggiungeremo anche altri dettagli come per esempio scatole Cose di questo tipo che vanno a decorare un pochino meglio la zona Le bancarelle come potete vedere sono di stili differenti Sono comunque tutte riguardanti due stili principali Ovvero con una parte inarcata interna E poi con le colonne rialzate che servono per fare appunto due bancarelle diverse Per evitare la ripetizione In queste qua più basse andremo a mettere delle fence E dei muretti di cobblestone alternati uno all'altro Quindi qua sopra per esempio metteremo il muretto di cobblestone E poi sopra delle fence Semplicemente per fare poi la parte che sorreggerà Come dire il mini tettuccio della tenda stessa del mercato Che come potete immaginare sarà fatto di lana Che come potete vedere c'è stata rifornita dal gentilissimo Captain Master Tramite le sue pecore Quindi grazie Daniele Mentre per quanto riguarda le bancarelle fatte così Ovvero con i pieni nastri rialzati Andremo a collegare soltanto alcuni pilastri Quindi per esempio questi qua Tra di loro utilizzando delle fence Che andranno a fare il reggimento superiore per la bancarella stessa Come per esempio in questo caso Mentre per quanto riguarda altri collegamenti Non li faremo in quanto non serviranno E saranno semplicemente per reggere appunto Il tetto della bancarella stessa Quindi come potete immaginare anche voi È una roba abbastanza semplice Tra l'altro adesso andremo a fare la struttura Che unirà appunto i vari pilastri delle bancarelle Che sarà semplicemente un'unione di slab di legna di abete E un pochino di altri blocchi Quindi direi subito di passare anche a quella fase del lavoro Bene ragazzi come potete vedere Sto riorganizzando bene le bancarelle Ne ho aggiunta anche una lì Visto che c'era una zona vuota Ho deciso che queste qua Ovvero questa e quest'altra Le andrò a fare con un tetto abbastanza semplice Con il colore blu e azzurro chiaro Che abbiamo recuperato tra l'altro ieri nella magione Che abbiamo esplorato insieme a Daniele E volevo anche dirvi ragazzi Che queste qua sono appunto le due bancarelle Che si differenziano dalle altre Perché come potete vedere Sono quelle con i pilastri rialzati Saranno quindi quelle un pochino più semplici Con le quali lavorare E saranno quelle che per farvi capire Avranno il tetto inarcato Quindi a partire da questo qua Faremo delle file molto semplici di questo tipo Che come potete vedere Vanno a fare un tetto abbastanza semplice appunto Mentre per quanto riguarda quelle lì Andremo a fare un tetto un pochino più complicato Che vi andrò a mostrare meglio tra poco Quindi adesso finisco un attimino il lavoro Con queste bancarelle Che come potete vedere anche voi Molto semplice Dopodiché vi mostro come si fa Il tetto di quelle lì più complicate E dopodiché faremo gli interni Se così si possono chiamare Delle bancarelle stesse Più qualche decorazione Perfetto questo tipo di bancarelle L'ho fatto Come potete vedere Ho anche utilizzato qualche altra variazione Del blu e del bianco Per aggiungere un pochino più di colore Là sopra ci sono dei blocchetti Che dovrei andare a recuperare Ma sono un po' pigro E devo tra l'altro finire il lavoro in tempo Quindi adesso vi metto un attimino sotto col lavoro Mentre per quanto riguarda invece Questo tipo di bancarella Andremo a fare qualcosa Che va a replicare Se così si può dire Più uno stile a onde Ovvero andremo a fare qualcosa Che appunto vada a basarsi molto Sui vari livelli d'altezza Della bancarella stessa Quindi in questo caso Per esempio andremo a fare il contorno Ai pilastri più esterni Come per esempio in questo caso Andremo a fare una cosa di questo tipo Quindi contorno sia davanti che a destra Ovviamente non nella parte interna Dove dovremo andare ad alzare Il livello della bancarella stessa Quindi facciamo una cosa di questo tipo Che dovrebbe andare più che bene Perfetto Poi ovviamente vado a mettere i colori giusti Infatti questi copi esterni Dovrebbero essere gialli Per fare l'alternanza dei colori giusto Ma non c'è problema Adesso vado a sostituirli E a questo punto ragazzi L'idea sarebbe quella di proseguire Con la tendina normale Fino a quando non si arriva all'interno Dove c'è il pilastro centrale Quindi questo pilastro qua Come potete vedere anche voi Dove bisogna fare bene o male La stessa cosa che abbiamo fatto prima Quindi anche qua il contorno esterno Soltanto da questa parte Però che come potete vedere Va ad allinearsi in maniera Abbastanza precisa Con la tendina che abbiamo fatto fin qua Però dobbiamo farlo in questa maniera Quindi questa parte qua la togliamo E mettiamo questa qua arancione Quindi così Poi ci sarà una parte anche sopra Però direi di mostrarvi prima Come si fa questa parte qua E qua sopra Esattamente sopra al pilastro Che abbiamo appena messo Scusate un secondo Mi devo fare una scaletta Dovremmo fare Sì che anche qui Ci sia appunto un'alternanza Però sopra i due pilastri centrali Quindi una cosa di questo tipo Dopo aver fatto questo lavoro Ovviamente fatelo anche dall'altra parte Se avete fatto una bancarella simmetrica E rispetto ai blocchi Che avete appena piazzato Alzate il tutto di uno Quando andate più indietro Quindi fate una cosa di questo tipo Ovvero alzate tutta la bancarella Di un blocco Quando vi spostate Sull'asse posteriore Della bancarella Potete scegliere voi Quanto farla alta Io credo che per esempio L'alzerò ancora di un blocco Qua in mezzo Per poi stenderla fino alla fine E direi di fare il collegamento Tra le varie Ondine Se così si può dire Della bancarella stessa A questo punto Quindi direi che qua Ci può stare più che bene Alzare anche quella centrale Ovviamente la stessa cosa Dovrete farla anche dall'altra parte Sia per quanto riguarda Dal lato sinistro Sia per quanto riguarda Il retro Ma appunto Come potete immaginare Il lavoro non è per nulla complicato E inoltre Da una forma abbastanza decente Alla bancarella Quindi A questo punto Completo la bancarella Off camera Vado di fare anche le altre Mi preparo i materiali Per poter lavorare insieme a voi Agli interni delle bancarelle stesse Che ragazzi Visto che era troppo asimmetrica La bancarella Ho deciso di spostare Il blocco che c'era qua dietro Un pochino Può esterno in avanti E mettendo qua Un blocco centrale Appunto davanti al pilastro Che secondo me Comunque ci sta abbastanza bene Da una forma un po' più regolare Alla tendina stessa Quindi a questo punto Direi di proseguirla E nel frattempo Come potete vedere Daniele ci sta preparando I materiali che ci serviranno più tardi Quindi lo ringraziamo ancora Grazie mille Daniele Cribbio Ma ci mancherebbe Bene ragazzi Come potete vedere Abbiamo finito tutte le bancarelle Come potete vedere Abbiamo optato per fare I colori delle bancarelle Di questo tipo Diverse l'une dalle altre Ho già cominciato a decorare Alcune bancarelle Come per esempio Questa qua Che ho deciso di rendere La bancarella del fruttivendolo Praticamente Comunque le decorazioni Sono molto semplici Si basano sull'aggiunta Delle casse all'interno Delle bancarelle Qualche blocco di Legna di querce Qualche blocco di legna di abete Alternati messi a caso per terra In maniera tale Da simulare magari Qualche scatola Qualche scatolone appunto Qualche rimasuglio Di pezzi E cose di questo tipo Che appunto possono essere Stati lasciati nella bancarella stessa Poi qualche fence Qualche decorazione Come tappeti E robe di questo tipo E l'aggiunta magari Di qualche vasetto Con cactus O addirittura vasetti vuoti Che poi vanno a simulare Magari appunto Dei piatti Per quanto riguarda i vasetti vuoti Dei vasetti con cactus E piantine Per semplicemente decorare Quindi Adesso per esempio Voglio rendere questo qua Il luogo dell'armatura Quindi qua sopra Potrei mettere tranquillamente Due item frame Così O icon frame Come volete chiamarli Metto qua Un manichino bellissimo Sopra il quale Poi andremo a mettere Delle armature Di pelle ovviamente Perché mi sembra un po' Non spreco andare a mettere Magari delle altre armature Uh perfetto Sono anche appena fatto Delle botole Per fare le entrate Qua del mercato Che saranno molto semplici In questa maniera Come potete vedere Poi vi ricordo principalmente Che solo a scopo decorativo Il mercato Non avrà anche Una funzione vera e propria Se non quella appunto Di contenere magari Qualche villager Per lo scambio In questa qua Direi di non metterli Visto che come potete vedere C'è lo spazio per il villager Di poter uscire Poi è vero che possiamo mettere Magari qualche blocco Qua in maniera tale Che il villager Sia impedito Da questo punto di vista Per quanto riguarda La possibilità di fuga Però comunque Diciamo che ho intenzione Di mettere principalmente I villager In queste due bancarelle qua Che sono quelle più optimali Magari anche questa qua Vero dè visto che ci sta Abbastanza bene Io posso portartelo qua Con le rotaie il villager Sai cosa la fa Vai farlo Allora dammi tipo uno smeraldo Lo mettiamo qua dentro E mettiamo Stanno pivendo Ecco ragazzi Una cosa che abbiamo notato prima Guardate con che trist Oh Temporale Ok questo forse potrebbe essere Un problema Comunque guardate Quanta tristezza Ha il mondo E quanto è realistico Ti prego Vieni qua E quanto è realistico Il mondo qua È caduto un fulmine Lidietro No 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 La piazzetta centrale Con le luci Vieni a vedere Ti prego Con la pioggia È tristissima È vero È molto molto triste Perché poi le shaders Rendono tutto scurissimo Oddio tutto buio Non ci vedo niente Eh no Infatti Esci dal mondo che dormo Esatto Comunque tra parentesi Ma la pioggia piace tantissimo È un Non so perché Mi rilassa Molto semplicemente E qua sono sponati Un po' di spetri Quindi doni ne occhio Ai creeper Che potrebbero essere sponati Anche loro E vorrei evitare che esplodano E poi ragazzi Direi di aggiungere Anche qualche blocco Qua fuori Semplicemente Per lo scopo decorativo Che ho appena detto Quindi anche Semplicemente Qualche scala così In maniera tale Che sembrino i rimasugli Magari di qualche scatola aperta Cose di questo tipo Anche qualche crafting table Come appunto suggerisce Captain Master Del quale tra l'altro Vi ricordo che vi lascio Il link in descrizione Può migliorare tantissimo La zona Anche per il semplice fatto Che appunto Una crafting table Ci sta molto bene In una zona come questa Grazie delle slab Intanto che utilizzeremo Ovviamente per decorare Perfetto ragazzi E direi quindi Che il nostro mercato Si può ritenere completo Come potete vedere È molto vivace Soprattutto si vede Molto bene Anche rispetto alla piazza Che ha i colori Un pochino più grigi Soprattutto vari Assumere quelle che sono Le rovine di un vecchio villaggio Che poi andremo a costruire Tutto pian piano Rendendolo anche abitabile Per tutti coloro Che poi si avviceranno Nella zona del centro E ragazzi Devo dire che alla fine È venuto un buon risultato Io ne sono particolarmente contento Ringrazio tantissimo Daniele Per averci procurato La lana E qualche materiale Per la costruzione Appunto di questo mercato Ovviamente lo andremo a decorare Meglio poi off camera Aggiungendo qualche dettaglio Quali foglie Altre scatole qua intorno E cose di questo tipo Ma generalmente Direi che il progetto Si può ritenere completato Fatemi sapere ragazzi Se questo mercato vi piace E fatemi anche sapere Se questo video vi è piaciuto Lasciando un bel mi piace Che oltre a supportare me La serie Supporta anche il canale Io ragazzi Come sempre ci tengo Ad augurarvi una buona giornata Una buona serata Vi invito anche a passare Nel canale Telegram Del quale trovate il link In descrizione E ovviamente di passare Anche dal canale Di Captain Master Che anche quello lì Troverete in descrizione A questo punto ragazzi Come sempre E come oggetto Voglio augurare Una buona giornata Una buona serata E spero ovviamente Di rivedervi Nel prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao ragazzi